Sì, è un match importante perché loro erano una squadra superiore, lo sapevamo, perché erano di categoria superiore, però credo che abbiamo fatto quello che ci aspettavamo, ovvero dare il massimo e cercare di prendere il meno gol possibile perché sapevamo che era molto difficile e penso che ci siamo riusciti perché soprattutto i miei due gol su due rigori non c'è proprio un vero e proprio superiorità dalla parte della Fiorentina, soprattutto su quei due gol. Poi invece il terzo è stata una grande azione, è giusto così. Sono arrivati altri due giocatori in questa settimana e pian piano il gruppo cresce, quindi soprattutto i giocatori di categoria sono arrivati e questo è importante anche perché ci siamo molti ragazzi che abbiamo voglia, però serve un po' di esperienza e sono arrivati e sono felice di questo perché ti possono insegnare e ti possono dare tanto anche dal punto di vista dell'esperienza. Stiamo lavorando, nel ritiro è giusto che mettiamo un po' di benzina nelle gambe, come si dice, col prof comunque il mister è un mister che vuole, usiamo tanto la palla, anche magari facendo lavori fisici sempre con la palla e credo che oggi abbiamo dimostrato che dal punto di vista atletico siamo messi abbastanza bene. No, bene, bene, è un mister che rispecchiamo oltre le mie qualità perché è uno che vuole tanta pressione, tanta aggressività e quindi mi sto trovando bene proprio perché ci trasmette il carisma che è una delle cose principali nel calcio moderno. Grazie a tutti!